Ma per esempio fai Ramblin quando fai neanche si tratta come il leone, c'è il pedo sotto, ma è un po' totalmente fatto per... Ma che mai stuso? No, veramente fai pieno. Dove sta andando? Non so, non so. Che vuol dire FUNCIE? FUNCIE che vuol dire? Pieno? Non lo so. No, non c'è ancora mica la cosa piena.